è diverso fail games 2 il ritorno dead kings vi ricorda qualcosa dead kings se vi dico bloody checkers cosa vi viene in mente i fan della prima ora a sciupa soprattutto uno che ci segue da sempre questo qua non è bloody checkers è bloody checkers senza checkers praticamente solo bloody ricordate il primo filmato che abbiamo fatto quella porcheria del tipo e allora ve lo linko cliccate là nel quadratino che metterò ma tu stai facendo le cose ancora prima di... sono pazzesco ok adesso che l'avete cliccato il link sono su un altro filmato non sentono più quel che diciamo quanto dura che dobbiamo aspettare 10 minuti va bene insomma adesso tireranno indietro ecco quella roba lì il primo filmato che abbiamo fatto l'abbiamo ripescato sul marketplace è la pioggia è la pioggia o è... no no è la pioggia la pioggia non sta flicherando si si è la pioggia la pioggia le do male eh vedo male eh sta roba è vero, è vero... è pioggia e comunque era bloody checkers è bloody checkers l'unica cosa decente l'unica cosa decente di bloody checkers era che c'era una dama che dai almeno una dama tu spuchi for me l'hai già comprata comunque dicevamo che Antotto l'unica cosa decente che era la dama per lasciare tutto il contorno che era una vera merda video settings ah vedi che l'hanno tenuta da bloody checkers oddio oddio sta merda è clock si perchè è roba seria va bene come al solito vabbè a sinistra vediamo personaggi sconosciuti che magari sono famosissimi ma noi siamo i re dell'ignoranza quindi non sappiamo che cazzo siano capitan findus a sinistra c'è la ducì a destra c'è capitan findus ok 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 bene ve lo ricordate sta roba sta galassia cosa sono pipistrelli pipistrelli proprio a creepy adventure porca troia tipo questa però ci sarà in questa cassa ciucci no no ho buttato giù la cassa ecco ecco adesso possiamo aprirlo ooooh roba ovunque lo sai saltano fino a lì comunque hanno riciclato le casse ma anche si ma è uguale tutti niente ciucci un po' di alcol si saltano fuori venti un'altra casse ma questa è fuori dio bestia devo farti tutto al giro no 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 vabbè too spooky for me non puoi perché come non posso guarda qua guarda qua ma non illumina un cazzo sta merda di ocane beh vai te in giro una candela si ma che cazzo rompi i coglioni una candela eccolo qua quella ci sarà che è che è questa monete soldi moneta eccola chiave di entrata a posto quindi ti serviva una chiave per entrare giustamente il re il re puttaniere l'ha messa lì come dire la metto sotto lo zerbino tanto chi mai oserà entrare nel mio castello di meo peggio che la dama poi non c'è più la dama non c'è più neanche per quello entra guarda lo scherzino verde no 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 non so se questa con cosa con la chiave di prima apre tutto cazzo le fai chiusa allora si apre tutto un quadro di you found a merhand shop do you wish to enter merhand we are merhand sigheil i golò 400 golò di golò di prima è tanto è tanto tanto allora questo gioco ti permette di vendere delle monete dette anche golò golò per avere altre monete per avere altri monete no hai venduto tutti i golò vabbè no ho venduto le monete per avere i golò si ma zio porco adesso cosa compri senza l'oniskale l'oniskale la compro 150 150 golò vai io vendo le monete per avere le monete dopodiché con le monete compro oh mio 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 brett go ah... stone zit di teschi oh oh rimetteli dentro si adesso li metto tutti dentro aspetta non entrano alcuni si gli scompagliono sono tutti scomparsi aspetta che mi accendo la la per usare gli oggetti era questo Questo, no, questo, questo, questo. Vai là! E questo cos'è? Alla posizione... Dai, dai, entra, entra! Quello sono io lunedì mattina prima di andare al lavoro, eh? Criki! Cosa vuoi Criki? Finalmente qualcuno mi ha sentito! Sono un re morto. Puoi chiamami Criki? Follow me. Tipico nome da re, Criki, eh? Sì, sono entro Criki. Sono lo scheletro di Criki, che è uno scheletro. Tu Criki for me, eh? Oh, è la Criki! Gemme! 20! Di merda, no, qua si cade. Cos'è quella roba? Teschetti. Cos'è? Teschetti. Criki, mi raccomando. Criki, porco Dio, guarda, porco Dio, Criki, eh? Oh, che è qui. Ecco, oh! Criki, Criki, sciallo, eh, te, eh, con la tua camminata. Attiva la leva, attiva la leva. Sì, l'ho vista. Eh che... Come cazzo faccio ad arrivare la leva se c'è sta merda in mezzo? Oh! Eh, adesso basta. Basta? Posso raccogliere? No. Grandi... Sprofondano nel terreno. Grandi... Enigmi, sì. Una croce. Una croce. Puttana, questa viene fuori là. la peggio merda, eh. Questo viene fuori la peggio merda. Criki, cosa c'è qua sotto? Criki? Criki? No, vabbè. No, mi sarà molto sveglio, Criki. Guardava Fabian, c'è anche lui. Sarà il fantasma del... Guardate le gambe incrociate. Ah? Ah no. Era la prospettiva. No, non riesco più a farlo. Criki, ma cosa ci combini? Sì, perché ho fatto una vera. Io questa non la tirerei. Sicuro? No, no, io la tiro. Oh, c'è le doggy dog rules. Chi è? Oh, ma vaffanculo, Criki. Io te l'ho detto. Porco Dio. Adesso? Adesso che cazzo faccio? Che cazzo faccio? Io te l'ho detto di non tirarla. Adesso aspetti che ti... No, adesso mi prendo una pozione. Oh, mi beccano anche qua? Prendo una pozione e vado. Non cazzo, vai, 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 vai. Non ce la fa. Non ce la fa. E quindi? Io te l'ho detto non dovevi tirare. E quindi che cazzo faccio, scusa? Mm, mm, mm. E adesso Criki? Vai, vai, vai. Ma dai, Criki. Ma dai, Criki, non ho fatto un cazzo. Noi puoi cambiare gli oggetti con Criki. Non vi ho fatto un cazzo? Tre di items? Ah, c'hai l'acciarino e... 5.000 Goro? Goro? Golò? Oh, come? Oh! Ok. Io a questo gioco veramente faccio... Finiranno prima poi tutte le frecce del mondo. Oh, che ho? Oh, mi faccio morire? No, ma no, c'è il buco. Ecco, ecco. Vabbè, ricarico, dai. Provaci ancora. Inventori Lost? Ah, tipo Dark Soul. Sì, è proprio uguale a Dark Soul. Come lui. Ah, torniamo dentro sta merda. Vai. Oh, che porco Dio. Vabbè, non arriva. Ah, però non c'è più la chiave dei... Ecco, ecco. E te te, che ghiacchiai. Cacchia. Piaccia. Oh, no, l'alciarino? Ecco, non c'è neanche più la chiave. Oh, porca puttana. Prova a entrare. Oh, no, ce l'ho, ce l'ho. Chi è? È la tua anima. È Dark Soul. Questa è una copiata per esempio. Dove è Creeky? La Creeky? 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 Ma qui a tirare la bibola. Ma Dio Carlo ci sono le frecce. Ma Dio, che cazzo è un bacio? Ma che cazzo devo fare? Creeky, Dio Carlo è? Ma che cazzo è un bacio? Ah, ho finito le frecce. Ah, adesso ho finito. Ma Dio, porco Dio, cazzo è un bacio. Creeky, vai a esplorare. Vuoi andare a l'interno? No. Vuoi usare un bacio? Sì. Ma da qua. Creeky è un bacio. Creeky è un bacio. Ma che cazzo è un bacio? Creeky è un bacio. Creeky è un bacio. È andato via. Porco Dio, Creeky. Oh, no. E adesso cosa facciamo? Lala, sei il peggior Creeky che abbia mai con noi fatto. Ma io non so cosa fare adesso. Ma ascolta, non ricominciamo. Ma no, ma come? Come vuoi trovare una soluzione a sta cosa? Oddio, mi sono sbagliato. Oddio, cane, c'ha i tasti. Porco Dio, madonna che gioco di merda. Oh, cazzo. Dopo ci pigliamo il nome del programmatore, gli scriviamo come... Ecco che aspetta la cadena. Ogni volta. Oh, criky, criky. Yusuf. Ma non recuperare l'anima. Ma vabbè, ma l'anima è qui? Perché qui sono morto. Eh, ma... Quindi le... I wasted all the time you were not here. Ma porco Dio, criky. Si incastra pure il merda. Si incastra pure? Ma dove cazzo sei? Ma c'è... C'è un deficiente. Creeky, sei un deficiente. Creeky di ocane non le vedi? Ma non gli ha sbatto un cazzo, Creeky, giustamente. Senti, sai cosa faccio? No, 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 ma che cazzo... No. Vai fu. Gira a sinistra. Dov'è? Aiadio, che ha messo in me. Nell'occhio. Falta giù. Vai giù che vengono anche Creeky. 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 Se scendi, scendi anche tu. Creeky. Ma tutto. Eccolo, morto? No. Brava, grazie. Cosa? Cosa? Oddio, criky. Ma che cazzo c'è succedendo? Ma che cazzo c'è succedendo? Creeky. Guardalo. Opla. E la Creeky. Vieni dentro Creeky con noi. Creeky. Corri, corri. Corro. Frega un cazzo, si spegne tutto. Dai, dai, dai. Dai, Dio bestia. Dai, Dio bestia. Ma no, porco Dio. Cane. Oh Dio. Non posso tirarla riva perché la canina aspetta? E non puoi. Piano B. Chiedi a Creeky. No. Creeky è dimostrato completamente inutile. Se non per la camminata sciallissima, ripeto. Allora, adesso arriviamo a limitare delle frecce. Dio, parco. Dai, dai, dai. Dai, ti, porco Dio. Oh, best bro ever, eh, Creeky. Guardalo. Mi sembra fatto un po' paura, ma noto che ti ci abitui. Non ne fai più o meno di questo. Secondo me devi bere una porzione. Sì. Aspetta, 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 aspetta che c'è l'energia bassa. Ok. Portati da solo a sinistra. No. Aspetta che ti si carica di tutto. Vai. Dai, dai. Tirala, tirala. Dio, bestia. L'ho tirata, l'ho tirata. Vabbè, lo stesso l'ho tirata, l'ho tirata. Ma perché stiamo giocando a sta cosa? Ah, ma viene da dentro Creeky. Hai visto? Trapassa i muri. Scusa, porca troia. Tanto, trapassa i muri e prima era chiuso dentro nella stanza. Sì. Va bene, va bene Creeky. Sei furbo anche te, porca troia. Creeky non le frega un cazzo. Guardalo, guardalo. Aspetta che devo riaccendere la candela. Come cazzo si faceva? No. Uno, due. No. Tre. Allì. Visto Creeky? Bravo, eh? Visto? Mi guardo. Creeky? Creeky, dio cane. Creeky, dio cane. Creeky, sei tu che fai sti spaventi? No, no, no. Eh, guarda già a frecce. Ah, fangulo. Dai, dio cazzo. Che gioco di merda, porca puttana. Vai. E prova, vai. Da dove vengono? Vabbè, tira, tira. Sarà adesso. È tempo di spiegare? Direi proprio di sì. Sì, la preghiamo? Ah, player, no, player. Però anche player. Sei cinese. Xassi? Quanto vuoi fare il game option? La duc... You're traps? Ma porco Dio! Ma no! Ma no! Ma di nuovo il gioco di dama! L'ho comprato due volte! Due volte l'ho comprato! Ma la portai... Ma senti, vuoi... Due volte? Ma te vuoi dirmi che sto qua? Ha fatto il gioco di dama? Ma c'è anche altro. E poi ha cambiato nome... E l'ha rivenduto uguale! È un genio! Ma... Non voglio dire niente cosa stai! Stiamo facendo la recensione... Di un gioco che mi ha già recensito tipo due anni fa! No, non era così! Non c'era Cricchino! Non voglio di giocare la dama! Eh, dobbiamo farlo! No, che due coglioni! Dio porco! Cosa devo fare? Cos'è sta roba? Vai, dai, vai! Fai la terra, dama! Vieni coglione! Oh, mosche! Cos'è sta roba? Ma... Dai! Dove fai venire le mosche, dai, per piacere! La cap? Non hai zero mosche, zero cacca! Trent'anni, eh, Felgens! Trent'anni! Guarda qua, clicchi! Guarda qua, clicchi! Ma l'ambulicione è male! Ah, se non faccia posizione... No, non sta a far dump! Gatter, gatter! E quello sto facendo, secondo me? E questo era un trampo? Via tutti! Facchi un merda! Perché hai rifiutato? Oh una torcia per salvare! Torcia! Guarda qua il bonfire di Dark Souls! Esatto! Il cazzo ce la abbiamo a fare che non ci giocheremo mai qui! Oh! Viola? Cricchi! Uila! Cricchi! Ti dona la fiamma viola! Alla grande! Pronto per Leny Cricchi? Fa il vibratutto come al solito Frecce No! Sarei un coglione eh attivarla! Ma noi siamo di fregge! Oddio morcoddio!